EZI GO Oggi torniamo su Fortnite Oggi come avete detto dal titolo Manca ancora un giorno Come sapete io registro un giorno prima Di quando esce il video E quindi raga Iniziamo con Andando in partita E raga ci vediamo in partita Raga raccoci Come nei precedenti video Andiamo nelle casettine E come al solito Prendiamo Prima le armi E poi Le news Raga comunque Oggi abbiamo molto da cui parlare Sia Sia per La prossima season Sia per l'evento E sia per Fortnite Su Apple E Quindi Raga Andiamo prima a prendere le armi Scusate Come al solito Che fa casino Raga Scrivete nei commenti Se ho un fratello normale Perché secondo me Perché secondo me no Comunque raga Prima di iniziare Come al solito Lasciate un bel pollice in su Se Se la serie Delle news Vi sta piacendo E iscrivetevi E lasciate un bel E vabbè ciao Iscrivetevi Attivando la campanella Così Non perderete mai Un video E Raga Penso Dai Iniziamo Inchiudo un attimo Per dirvi Da prima Poi Del resto Vado fuori Comunque raga Se vedete che Alcune news Sono Di un iPhone Diverso Dal mio Che è il mio I8 E questo È uno degli avanzati Non so quanto Tra Tra Il 10 E L'11 Tra quelli avanzati Non so È perché Questo è Un leaker Un leaker Che Che Ha Che ha Un iPhone Non così Ovviamente Penso che Sono Uno degli unici Che Tiene un iPhone 8 Comunque Iniziamo Raga La prossima La prossima stagione Sarà disponibile Lunedì 13 Settembre Ci saranno Anche 8 ore Di natività E questo Ovviamente Lo sappiamo Che vi ho Già accennato Un po' Di Video fa Nella patch Nella patch Punto 50 Il testo Che è stato Utilizzato Dopo l'evento Galactus Continua È stato Riaggiunto Ai file C'è la possibilità Che Epic Possa usarlo Ancora Una volta Per indirizzarci A una schermata Di un buco nero O una semplice Schermata Con un timer Raga È possibile Che Che Epic Faccia Come Ha fatto Per la Per la fine Della Della season Di Galactus Che Fanno To be Continued Più La season 8 In questo caso E Dovremmo Ritrovarci Un buco nero Come Nella season Di Galactus E raga Forse Non è Tutto Scontato Perché Dobbiamo Andare In safe Comunque Raga E Se vi Ricordate Che Che tante Season Fa Non mi Ricordo Quante Ma Un po' Parecchie Season Fa Non tante Ne troppo Poche Season Fa E C'è Epic E Collaborato Con Rocket League Ed è Possibile Che La Collaborazione Torni Torni Nella prossima Season Comunque Raga E' meglio Che scappo Quindi Ho lasciato La Canna Da pesca Così All'aria Comunque Comunque Qui non rispetterà La legge Sui pagamenti diretti Negli store In Corea E' prevista Una multa pari Al 3% Delle entrate totali Realizzate da Epical Mi sa che questa è ormai persa Raga Eh sì Ok facciamo una cosa Ci vediamo in un'altra partita Perché ormai E' per Raga Eccoci Ovviamente Sono finito Quaggiù Non vi ho fatto Vedere Per non farvi Annoiare E quindi Riprendiamo Le armi E poi Mentre andiamo In safe Mi Mi Dico Le news E altre Ehm Di 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 No, 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 no. Dunque, continuiamo Di fatto, la Epic per far tornare Portent sull'Apsor Deve assolutamente vincere la causa negli Stati Uniti O altrimenti Apple ignorerà le leggi Le leggi dei singoli paesi Come in questo caso è successo in Corea del Sud Per il momento stiamo ancora aspettando il verdetto del giudice da maggio Raga, non è ancora detto Però è possibile che Apple farà ritorno Farà tornare Portent Speriamo che torni Perché io non vedo l'ora di averlo sul mio telefono Portent Così posso giocare anche nel letto, tavola Da tutte le parti Che Raga, non ve l'ho mai detto però L'anno scorso in pizzeria Io stavo giocando a Portent da telefono Sì Quando avevano messo Portent su Apple E io avevo l'iPhone Io giocavo sul telefono E non vedo l'ora che torni Per giocarci su Apple Dunque Apple non permetterà che Epic torni Nell'App Store nemmeno in Corea del Sud Fino a quando non accetteranno Di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri E' per questo che vi ho detto Che è possibile che non torni Però speriamo che Epic accetterà Un attimo che Uccido questo Ancora Oh Santo no E' poca vita Ancora una jump No Perfetto Vabbè Facciamo che Farci Creare tipo Così E' la Non serve uscire Dentro E' meglio che non fidati Fa sempre la solita mappa E ragazzi vediamo quando Scusate il rompipalle Scusate anche la parola del rompipalle Di mio fratello Ma ovviamente non mi fa mai registrare E speriamo che è anche l'ultima volta Che mi rompe le palle Scusate la parola Ah ci voleva Quindi Chiudiamo questo Poi altre news Vabbè vabbè Dall'alto Comunque Apple ha risposto Così ad Epic Come abbiamo sempre detto Saremo lieti del ritorno di Epic Su l'App Store Se accettassero di giocare Secondo le stesse regole di tutti gli altri Epic ha ammesso di aver violato Il contratto E al momento Non ci sono Basi legittime Per il ripristino Del proprio account Sviluppatore Raga Ehm Non dico nulla Non parlo Però Ehm Vabbè Niente però Vabbè Meglio un bot Come è Come state vedendo Meglio un bot Ho anche pingato Perché sbaglio Ah ecco Finalmente ho killato Comunque Epic ha il gesto Comunque è sempre Tra Epic e Apple Epic ha il gesto A Apple di ripristinare L'account sviluppatore Su Fortnite Epic intende Ripristinare Fortnite Su iOS In Corea Offrendo sia Il pagamento Epic Che il pagamento Apple Sempre in conformità Con la nuova legge Coreana Raga In Corea del Sud Vorrebbero Far tornare Speriamo Che Che Speriamo che Accettano Anche In Italia Ma Penso che Se hanno accettato In Corea Dovrebbe Dovrebbero Accettare Anche Anche per I paesi italiani Spagnoli Di tutto il mondo Dovrebbero Speriamo Che sia così E non solo In Corea Comunque Secondo gli eventi Di playstation L'evento Cieli di fuoco Durerà Intorno Ai 15 minuti Ed è come Vi ho detto L'ultima volta Che 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 L'evento Durerà Tra i 10 E 15 Ma Alla fine Alla fine Fanno 15 minuti Sarà Tra Dalle 22 Alle 22 E un quarto E Raga Vi ricordo Ancora Di passare In descrizione Che Che Dalla Descrizione Ci sarà Link Per Per Entrare Nella live In quella Programmata Che se volete Chattare un po' Tra voi Potete Da quel link E E raga Vi ricordo Che Io Fortnite Lo inizio Ad aprire Alle 20 e mezza Ma Penso che Tra le 20 e mezza Che l'avrò Sicuramente Aperto Ma Ovviamente Tutti Avranno Fortnite Aperto Anche da tutto il giorno Perché ormai Fortnite E' famoso Da giocarci Dal mattino 24 ore Su 24 E' 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 Non so manco Se mangio Quella sera Perché Sarà 20 e mezza Dalle 20 e mezza Poi Alle 21 Io apro La live E E Poi Alle 21 e mezza Iniziamo Ad andare Nella modalità Che Fino alle 21 e mezza Andiamo Andiamo Un po' A giocare Con gli amici Facciamo mezz'ora O con gli amici O da soli Facciamo Mezz'ora di gioco Di svago In singolo O Coppess Trio Qualsiasi modalità E Vabbè Io sprego altro Perché ho parlato Solo di questo Ora Ho parlato Mezz'ora Da dire Per dire Di questo Punto Sempre Epic Contro Apple Apple ha rifiutato L'offerta di Epic Di riammettere Porte in su IS Corea Hanno affermato Che non esiste Una base Legittima Per il ripristino Del loro account Sviluppatore Poiché Epic Aveva Ammesso Di aver Violato Il contratto E Apple Non lo approverà Fino A quando Epic Rispetta Le regole Apple Non permetterà Che Epic Torni Nell'app Store Nemmeno In Corea Del sud Fino a quando Non accetteranno Di giocare Secondo le stesse Regole Di tutti gli altri Apple Apple Tuttavia Sostiene Di non Aver Alcun Obbligo Di lasciare Epic Epic Nell'app Store Nell'app Store La legislazione Sud Coreana Non è ancora Entrata In vigore Come se lo fosse Secondo Epic E vabbè Ciao Secondo Apple Questo Non avrebbe Alcun Impatto Sul processo Dell'azienda Per l'approvazione Degli account Degli sviluppatori Fino a quando Epic Non accetterà Di Conformarsi Alle Irvine Guida Di Revisione Delle app Dell'app Store Apple Non prenderà In considerazione La sua richiesta Epic Per far tornare Forkett Sull'app Store Deve assolutamente Vincere La causa La causa Che negli Stati Uniti O altrimenti Apple Vignorerà Le leggi Degli singoli Paesi Come in questo caso E' successo In Corea del Sud Per il momento Bisogna ancora aspettare Il verdetto Del giudice E raga Speriamo che Che torni Veramente Forte Su Su Apple Ma vabbè Come Prima Non vedo Cora E Se Se Apple Mi fa Fa tornare Forte Sui Sui dispositivi Mi farebbe Molto Felice E E E Vabbò Raga Ditemi Ditemi Che ne pensate Del verdetto Di Apple Contro Epic Però Dovremmo Aspettare Ancora La decisione Del giudice Che Penso Che Sarebbe Il giudice Da quanto so Il giudice E E Con E con Epic Che Epic Ha anche Affermato Di aver Disubbidito Alle norme Di Apple E Non è ancora detto Che Porta Che tornerà Sui dispositivi Apple Però Se Epic Rispetterà Le norme Del contratto Di Apple E E Anche Dovrebbe Anche Vincere La causa Negli Stati Uniti Dovrebbe Tornare Nel 2022 Forse Non è detto Potrebbe anche Tornare prima Forse Nel 22 Non si sa Ancora Un po' Un po' Un po' Mi stanno Un po' Confusionando Raga Sono un po' Confuso Tra Epic E Apple Però Speriamo proprio Che torni E E raga Ultima cosa Che questa Devo assolutamente Dire Raga Da quanto so Donald Mustard Ha detto Che questa È la Sola season Preferita Forse Sarà anche La nostra Da quanto Da quanto I leaker Dicono A me Lo è già Perché Ci saranno Le piramidi Ed è una Delle cose Che mi piacciono Così posso anche Studiare Storia Support E Vabbò Raga Uccido Questo E ci salutiamo Oppure Quindi Uccide E Vabbè Vabbè Ci salutiamo Lo stesso E raga Da me Neste Noi BANG Noi